Come sarà la professione di giornalista tra 30 anni? Chissà, magari scriveremo dallo spazio o con la sola forza del pensiero, o ancora i big data ci suggeriranno scopi impensabili, o la realtà aumentata ci consentirà reportage da paesi di guerra senza correre alcun rischio. Forse sarà così, forse tutto sta per cambiare. Ma c'è qualcosa che non potrà cambiare mai. Si scrive per informare il lettore, l'ascoltatore o chi per lui. È un mestiere che non può esistere se non è alimentato da dedizione, passione, studio e verifiche continue. Quello che nessun computer e nessun robot potrà mai riuscire a fare da solo. Grazie a tutti.